il bit time cosa fa conta i periodi passati dall'ultima volta che i prezzi hanno toccato una media mobile in questo caso la media mobile che abbiamo selezionato è 50 periodi questa qua rosa quindi il contatore andrà a contare e quando passeranno 50 periodi che i prezzi non incrociano la media mobile non toccano la media mobile il bit time si attiva adesso quando settimana scorsa dicevo quando si attiva la probabilità che i prezzi si stabilizzino e ritornino alla media mobile era alta no poi avevamo introdotto i livelli del luca che sono questi qua e in poche parole ogni volta che il bit time si attiva l'indicatore va a tracciare una linea sul prezzo di chiusura di quel periodo e come possiamo riscontrare le aree dove ci sono tante linee fanno da supporto e resistenze le aree dove non ci sono sono praticamente di passaggio quindi quello è già una prima osservazione che possiamo fare velocemente senza star 4 a perdere troppo tempo comunque questo è un altro tipo di operatività che si può utilizzare per sapere dove sono supporti e resistenze attuali mentre il concetto di bit time che volevo usare io la strategia di fondo è trovare in poche parole una volta che si hanno le statistiche dalla propria parte il concetto di tempo tempo quindi so che manca poco tempo pochi periodi che i prezzi dovrebbero andare a toccare la media mobile io normalmente mi calcolo la pendenza adesso il concetto ho fatto già automatizzato tutti questi calcoli e si trova sotto proiezioni proiezioni in poche parole come possiamo vedere prendiamo l'ultimo esempio qua cosa succede si attiva il bit time ok e noi qua abbiamo 1 2 3 4 livelli ok più il livello storico in questo caso il livello storico e 98 quindi qua mi mette livello storico 98 gli altri sarebbero se noi abbiamo qua quando si attiva bit time il nostro bit time vale a 50 noi abbiamo detto che la probabilità che i prezzi tocchino la media mobile prima dei 100 periodi è la probabilità più alta ok quindi di conseguenza uno si chiede si ok ma andiamo un attimo a vedere zoomiamo e vediamo quando negli ultimi periodi prendeva la media mobile quando si attivava al bit time quindi eravamo intorno ai 56 periodi quindi poco dopo no in questo caso ho trovato veramente la correlazione aspettate funziona anche con le materie prime che sono molto volatili bella domanda quello non ho ancora testato le materie prime funziona con gli indici funziona con australia new zealand che è bello volatile e anche le materie prime col petrolio col petrolio si americano l'ho testato il concetto cos'è fin tanto che i prezzi mi rimangono nella zona verde la probabilità che i prezzi vadano a prendere a toccare la media mobile prima che il contatore arrivi a 75 periodi è altissima ok mentre se entra nella zona gialla beh qua ci giochiamo queste due zone ovvero se vedo che i prezzi si stabilizzano in già qua a metà della zona gialla posso prevedere che alla peggio i prezzi mi toccheranno la media qua ok e infatti andiamo a vedere quando la toccata la toccata a 66 periodi poi si ha zerato quindi ha rispettato il concetto eravamo rientrati nella zona verde ha rispettato il concetto entro 75 periodi del bit time no andiamo a vedere altri esempi ve lo mostro inizialmente come si dice solo una media mobile in modo che capiate bene tutte le sfaccettature di questi calcoli e come interpretare queste aree e poi dopo man mano vi faccio altri esempi e come lo utilizzo io in concomitanza con altre due medie mobili per avere più probabilità e più certezza sui livelli d'entrata vediamo qua ad esempio attiva bit time zona verde rimane qua schiacciato proprio sul livello quindi posso già stimare ok prima dei 75 periodi quindi in questo caso 75 ore i prezzi vanno a prendermi la media mobile ciò cosa significa significa che se si attiva il bit time noi siamo a 50 ore per arrivare a 75 e mancano 25 ore che praticamente è un giorno ok quindi se mi si attiva il bit time in questo momento e io vedevo che i prezzi era sparati qua la conclusione che potevo tirare durante questa giornata mi va a prendere la media mobile semplicemente quindi il miglior prezzo per entrare è chiaramente il livello in modo che se passa il periodo e la media dovesse salire fino qua io comunque riesco a chiuderla in guadagno adesso voi mi direte ma appunto se la media sale io l'ho lo chiudo flat e qua ho introdotto la pendenza la pendenza della media mobile per poter stimare quali sono i come si dice i deal tra virgolette sicuri ovvero prendiamo in questo esempio è andato giù già giù di dritto quindi c'era c'è poco da dire da analizzare bisognava vendere stop i massimi precedenti target la media mobile quando azzerava il condattore in questo caso ad esempio è entrato nella zona gialla però faceva su e giù tra zona verde e zona gialla quindi come faccio a dire se continua o no beh semplice se la media incomincia a star sotto la linea di pendenza significa che i prezzi stanno rallentando e correggono mentre se la media sta sopra la linea di pendenza significa che i prezzi continuano la salita aumentano la pendenza e di conseguenza i nostri calcoli rischiano di rientrare nella zona arancione rossa che sono quelle quegli eventi tra virgolette più unici che rari stiamo parlando del due per cento dei casi quindi se andiamo a considerare che il 60 per cento dei casi o il 70 per cento dei casi avviene i casi intendo che i prezzi incrociano la media mobile il 60 per cento dei casi avviene prima della nostra entrata nel bit time zone quindi ad esempio questo è uno prima di 50 periodi questo un altro qua continua a stare appiccicato quindi chiaramente sono tutti casi questi però noi andiamo escludere questi casi perché è troppo aleatorio dire sale scende come continua qua sappiamo che è salita e prima o poi comunque dovrà tornare no quindi io vado a cercare quei momenti dove la volatilità mi mi scende come abbiamo visto nel caso precedente e quindi ho un rapporto dopo chiaramente mi faccio il rapporto rischio rendimento e dico in questo caso eravamo a vediamo sopra bits dei tagli 117 56 i massimi appena battuti erano 117 64 e la media in questo caso era a 117 35 beh comunque era un rapporto sempre 21 rischiavo 10 punti per tirarne assieme 20 alla fine è andato a incrociarla a 117 38 ho tirato assieme 15 punti se includiamo lo spread non si sente mi sentite eccomi alessandro ci sono anche io connesso si sente benissimo anzi si sente benissimo a volte può essere per esempio tipo vincenzo prova a controllare la connessione che magari può essere quello usami per l'interruzione niente niente figurati scusate mi aspetta mi avvicino un attimo perché c'è sull'altro schermo le domande ogni tanto devo girare la testa per vedere se mi state scrivendo vi chiedo è tutto chiaro fino a qua il concetto delle varie zone che cosa sono i vari livelli non ho capito come si determina zone verdi e gialle ovvero le zone verdi e gialle cosa significano sono delimitate se vedi sono delimitate da questi livelli cosa sono questi livelli sono semplicemente quando il bit time sarà a 75 il conteggio dove si troverà la media mobile ok ipotizziamo che i prezzi continuano a salire e non stornino verso la media mobile quindi noi vogliamo poter stimare ok ma se passa più tempo di quello che avevo stimato dove sarà la media mobile non che si ritrova sopra i miei prezzi quindi la chiudo in perdita se non metto lo stop di conseguenza queste sono informazioni molto molto essenziali se si vuole utilizzare questo questo tipo di strategia di conseguenza appunto se rimane nella zona verde sappiamo che entro 75 periodi quindi prima che il bit time sarà 75 i prezzi andranno incrociare la media mobile adesso se fate un piccolo rapporto io bene o male l'ho stimato fin tanto che rimane nella zona verde e non va tipo a metà della zona gialla i prezzi incrociano la media mobile bene o male tra un quarto e la metà della zona verde quindi questo potrebbe essere il possibile target io in questo caso per essere conservativo cosa faccio in questo caso avrei venduto e avrei messo come profit semplicemente il minimo del range che sta abbattendo in questi periodi perché come vedete comunque ipotizziamo che qua volevo anticipare no dico non è ancora entrato in bit time però come vedo la maggiori 60 per cento se non il 70 80 per cento dei casi avviene prima del bit time quindi vendo puntando la media mobile no perfetto l'hai fatto però è ritornato su e questo capita spesso andiamo a vedere l'esempio l'esempio precedente vedete è andato su entrato arrivato praticamente all'estremo qua era il top entrare quando arriva scusate vicino alla zona arancione o comunque supera entra nella zona arancione vi ricordo che entriamo in quelle statistiche rare quindi la possibilità che i prezzi mi rimangano lì per tanto tempo è è poca è più probabile che mi faccia la spruzzata in su e poi torni giù a stabilizzarsi nella zona gialla ok oppure alla peggio mi incrocia la media mobile qua a questo livello è veramente rarissimo su pochi su pochi strumenti finanziari funziona cioè nel senso supera i livelli allora per far capire si va a fare trading nelle aree dove c'è un'alta probabilità che il prezzo ritorni verso la media mobile esatto esatto e noi tramite le varie zone possiamo stimare quanto tempo ci metterà cioè nel senso io qua dopo tre periodi siamo già nella zona gialla ok e il contatore come vedete sotto è a 52 zona gialla significa che comunque mi devono passare almeno altre 23 ore prima che i prezzi mi incrocino la media ok in questo caso è passato 66 periodi ma lo si poteva già stimare che era prima di 75 perché continuava a fare su e giù zona gialla zona verde ok quindi io normalmente in questi casi mi tengo come target finale il 75 periodi se fa su e giù quindi tutti i prezzi tra virgolette a metà del periodo sono prezzi buoni per vendere stop sopra il livello successivo per puntare a il primo livello oppure semplicemente il minimo del range che batteva come si dice precedentemente quindi 75 è il nostro riferimento si può dire giusto sì 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 75 è il nostro riferimento andiamo a vedere altri casi andiamo a vedere altri casi qua ad esempio si è attivato il bit time e siamo stati praticamente tutto il tempo in zona gialla ok noi quello che dobbiamo fare è aver pazienza innanzitutto perché sappiamo che devono passare almeno 25 periodi ok punto 1 punto 2 cercare quando fa una zona di range quando c'è un range ben delimitato in modo da poter avere uno stop ben delimitato perché giustamente come uno di voi ha scritto giocare contro trend non è non è mai come si dice non produce mai rendite io non concordo assolutamente anche perché se no non avrei fatto per dieci anni questo lavoro il concetto è disciplina se io so che mi si attiva il bit time e siamo già in zona arancione so che devono passare altre 100 100 ore no 50 ore prima che i prezzi incroci non questo qua è veramente la zona gialla delimita il tempo è cioè se siamo zona gialla significa che incroceranno tra 75 100 ore ok e andiamo a vedere a 0 95 e qua potevo dire ok la media è sotto si sta adattando sta facendo range perfetto qua è la conferma quando c'è la pendenza che sotto nel caso dei long che sotto la media questa tra virgolette la vostra conferma che i prezzi si stanno stabilizzando quindi andate a cercare il punto d'entrata sui sui minimi con punti di uscita o i massimi dei range oppure la media mobile se volete però io consiglio i massimi dei range perché comunque sia l'occasione di fare più volte la stessa posizione ma è capitato di farne una adesso non su questo strumento mi è capitato di farne una la mattina ma ha preso profitto sono andato a rivederlo a luna era ancora attivo al bit time era sulla parte inferiore ricomprato stesso stop stesso profit me l'ha rifatto la seconda volta e poi è andato diretto alla media ok avrò perso 10 20 punti di utile perché mi ha fatto l'ultimo balzo chiaramente quando verso la media va a toccare la media c'è sempre uno spruzzo quindi non è detto che dovete per forza prendere utile alla media anzi tante volte fa da supporto per poi continuare la correzione ok quindi con il bit time a 50 si fa scalping giusto col bit time a 50 si si di per sé si fa scalping se uno vuole utilizzare solo la media 50 è per semplicemente per vedere 50 periodi sull'orario chiariamo sono approssimatamente due giorni no quindi come mi si attiva al bit time non viene detto che la maggior parte dei casi è dentro qua quindi alla peggio entro due giorni mi prende la media mobile no ok io mi devo stimare quando entrare in questi due giorni quindi se siamo già in zona gialla aspetto un giorno non sto lì già subito a puntare il primo giorno perché già la zona gialla mi dice guarda che aspetta al prossimo giorno e infatti entravo il giorno dopo time frame orario consigliato o meglio più bassi no time frame orario tra virgolette quello dove c'è più più profitto perché chiaramente se vado sul cinque minuti o sul minuto i ritracciamenti sono 10 pips se vado sul cable i ritracciamenti sono sull'orario sono anche 100 150 punti a dipendenza della media mobile quindi è quello da valutare ad esempio giustamente tornando al discorso prima dei trend il il luca a lui ad esempio preferisce cavalcare trend no dice ale mi piace un sacco il tuo la tua strategia io personalmente la applico in concomitanza al suo indicatore in questo caso mi sembra che lui utilizza stocastico lo utilizza esclusivamente per ok mi metto quando si attiva bistai mi metto a cercare le inversioni sullo stocastico per poi dopo cavalcare il trend se penso che salga scenda o via dicendo io in questo caso star lì dietro notizie sale scende non lo so dove va mi piace giocare i ritracciamenti quando la volatilità scende quindi il rischio è basso e mi porto a casa comunque almeno i miei 20 punti cerco di fare un rischio rendimento che sia mio favore perché chiaramente come abbiamo detto le statistiche sono della nostra quando gioco nella zona in questi due campi da tennis tra virgolette la probabilità di non prendere lo stop in zona arancione stiamo parlando di una probabilità a dipendenza dello strumento finanziario di 8 barra 9 su 10 è quindi comunque mettendo lo stop significa che una o due volte mi prende lo stop detto questo cerco di fare i miei calcoli in modo che le mie le mie posizioni sono sono ben proporzionate cioè nonché quando guadagno guadagno due pips o cinque pips e quando perdo ne perdo 50 capite cioè il concetto uno ad esempio si metteva qua a comprare a fa scalping si è tirato assieme due pips e poi dopo però quando sa zero con stop sotto qua poi dopo quando sa zerato non dico che ha perso anzi e si aspettava comunque la chiudeva flat però il concetto è che è stato un sacco un giorno in perdita con la paura che magari gli andava sotto al livello quindi cioè cerchiamo di essere un attimo coerenti siamo nella zona gialla andrò a cercare di comprare nella parte bassa della zona gialla o comunque come detto aspetto le mie conferme della pendenza e del fatto che ci sia un range delimitato ok andiamo a vedere altri esempi altri esempi sempre zona gialla tac range delimitato qua in questo caso la pendenza aspettate proviamo a vedere la risoluzione inizialmente vi stava sotto praticamente lista appiccicata qua la pendenza non è che ci dava un particolare punto d'entrata come prima infatti questo qua è stato un ritracciamento esclusivamente per poi continuare andiamo a vedere qua quelli che preferisco ve lo confesso sono proprio questi qua si attiva bit time in più qua ci sono i livelli del luca ok quindi già qua mi dice sto qua un attimo a far scalping e come vi ho detto prima io punto al cinquanta per cento barra un quarto eh del della zona verde preso prima del cinquanta per cento ok perché qua so che in i prezzi andranno a prendere la media mobile prima che il mio bit time sarà 75 quindi significa che se qua sono le 4 di pomeriggio ok qua sono le 4 di mattina 7 8 e le 7 noi ci svegliamo qua vabbè sapevamo oramai non dico che era troppo tardi però comunque sapevamo che andava subito a prendere la media mobile questo è un po il concetto in questo caso chiaramente non l'avrei giocata perché il rischio rendimento non era dalla nostra parte e poi eravamo sulla parte alta del del range quindi il rischio che tornava giù e non era di impostare un ordine alla rottura di una media appunto quello non l'ho mai non l'ho mai non sono mai riuscito a farlo impostare un ordine alla rottura della media lo si può fare con i sistemi automatici se crei i robot ma l'ordine manuale non non l'ho mai visto a colori come si attiva l'indicatore a colori si attiva allora togliamo i livelli del luca che sono questi in modo che ci sono solo gli indicatori a colori e gli indicatori a colori sono le proiezioni ok se tolgo le proiezioni come vedi abbiamo solo il nostro bridge time e la pendenza la pendenza è questa qua io vi consiglio se utilizzate il mio sistema di attivare proiezioni quindi le zone a colori ed anche la pendenza in modo da avere uno quei bei segnali d'entrata che ve li confermano ad esempio questo si attiva dopo poche ore fa range mi incomincia a dispostare c'è una divergenza tra la media mobile e la retta della pendenza media e questo già il tra virgolette il mio segnale l'entrata ok giocati i massimi e minimi del range e al limite piazzate nemmeno uno tra virgolette fisso su minimi del range con stop sotto per puntare a metà o un quarto della media in questo caso comunque era stimabile proiezioni e pendenza si andiamo a vedere altri casi sempre qua euro dollaro qua in questo caso questo qua sarebbe stato bellissimo io inizialmente essendo che vediamo un attimo come veniva giù qua era partito la volatilità buono euro dollaro è però per euro dollaro fa non ci sta non era poi neanche così volatilità comunque essendo che la maggior parte dei casi è nella zona verde ok se vogliamo cinque casi su dieci sono zona verde tre casi su dieci sono anche quattro casi su dieci sono zona gialla e un caso su dieci dove non tutti gli strumenti ci hanno questo caso su dieci sono zona arancione zona rossa questo parlo per time frame orario giornaliero quattro ore se scendiamo con il time frame tipo il minuto il cinque minuti dopo andiamo a vedere qualche caso chiaramente la probabilità incomincia a salire che mi entra in questi in queste zone perché sul minuto cosa fa scende sta giù 50 minuti e poi dopo riparte in su è molto probabilmente scende giù veloce sta giù in quest'area qua 50 minuti e poi spara su normalmente fa sempre così sul minuto quindi il livello zona verde zona gialla sui time frame bassi sono da prendere non dico 50 e 50 però come si può trovare bit time su chi muro non lo trovo bisogna scaricarlo bit time lo devi comprare sul sito di investire punto biz adesso te lo mostro subito aspetta andiamo subito investire lo trovi sotto servizi investire cioè bit time indicatore per la c trader e c'è la due possibilità 179 l'abbonamento semestrale e 288 l'abbonamento annuale io vi dico cioè alla base il concetto comunque funziona delle statistiche voi molto probabilmente ci sono tanti di voi che hanno già la loro come si dice la loro strategia di mercato seguono già i loro indicatori ad esempio il luca lo stocastico però vi garantisco che avere questo strumento dove voi magari state cavalcando un trend e vi dice guardate che la probabilità che da qui parta una correzione indicandovi anche i livelli e la tempistica di quando può avvenire questa correzione questa correzione in base alle zone che in cui ci troviamo è molto è molto utile ad esempio mio padre lui anche lui ha fatto il trader per vent'anni lui utilizza le re sai da quando io ho passato l'indicatore e beh riesce a filtrare i falsi segnali molto più facilmente anzi non dico che siano impeccabili in questo caso i suoi punti d'entrata però io preferisco un approccio proprio più matematico sui livelli prezzi senza star qua a seguire altri indicatori come detto io l'ho basato tutto questo sistema dopo che avevo visto il film blackjack c'è tutto sul conteggio delle carte ho detto che incominciamo a contare il tempo e a buttare giù delle statistiche da lì ho tirato fuori questo indicatore negli anni alessandro scusami se ormai appena ho visto le modifiche ho detto no dai non vado a casa devo stare qua ad ascoltare e devo dire proprio bello bellissimo con con queste migliorie insomma diventa anche sempre più semplice capire quando il momento di operare quali sono i rischi le probabilità che si hanno quando si va in una zona verde piuttosto che una gialla insomma quindi ho fatto a modo a modo semaforo zona verde ok vai tranquillo va giù subito a prendere in poco tempo la media mobile qua un altro bel segnale zona gialla ok guarda che eh siamo tra 75 e 100 periodi che va a beccare la media e zona arancione zona rossa in quei casi non lo faccio perché eh significa che è partito un trend veramente forte eh e comunque devo stare lì ad analizzarlo per diverso tempo perché se abbiamo detto qua siamo 50 periodi grafico orario 50 periodi sono due giorni ok quindi comunque non andrò di sicuro a guardarlo appena si attiva il design ma anche qua se qua al posto di tenere fosse entrato in zona arancione e rossa eh mi sarei preso il mio stop avrei aspettato il tempo che passava in attesa che eh facesse range di nuovo fantastico devo dire un segnale di rischio di tempo naturalmente sì sì esatto cioè in poche parole se ci troviamo in zona arancione la probabilità che i prezzi incrocino la media mobile quando bit time sarà a 125 o 150 è altissima fantastico ok quindi eh è inutile che sto qua a puntare eh andiamo a vedere se c'è qualche esempio di zona verde 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 giallo verde giallo verde verde giallo verde uh eccolo ah no questo qua sempre come ho detto lì sono i punti d'entrata micidiali quelli sono fantastici zona verde verde giallo verde giallo è come dicevi tu anche in base è proprio a livello di probabilità è difficile trovarle euro dollaro euro dollaro vi garantisco che funziona benissimo la zona giallo e verde bello adesso andiamo a vedere ad esempio se funziona anche in borsa ok eh in borsa ingrandiamo un attimo allora qua rimanevamo zona verde fantastica questa aspettate che qua però devo attivare le pendenze nel frattempo in chat ragazzi ha inviato a tutti il link se volete abbonarvi cioè se volete acquistare l'indicatore qualcuno chiedeva anche ma le migliorie sono implementate nel momento in cui lo comprate ve lo inviamo con tutte le migliorie fatte e attenzione perché da una settimana all'altra abbiamo fatto già questa miglioria che a me sembra una cosa devastante bellissima ma c'è tempo c'è ragazzi noi siamo qui tutti i mercoledì e siamo pronti anche da insomma ascoltare le vostre idee piuttosto che andare a implementare o andare a migliorarsi ogni settimana cioè io vi confesso settimana scorsa siamo partiti dal semplice beat time e i livelli ok che utilizza il luca come supporti resistenze ovvero andiamo a togliere le novità tendenza ok eravamo partiti da qua dal beat time abbiamo aggiunto i livelli che è stata un'aggiunta del del luca è stato sinceramente molto interessante vedere come separa le varie fasi quindi già questo tra virgolette è un buon indicatore soprattutto quando entriamo in beat time c'ho due livelli bom li utilizzo come resistenze e punto in giù poi dopo ho capito comunque nell'ultimo webinar che molti facevano a capire fatica capire il mio concetto di statistiche calcolare dove sarà la media mobile e quindi le varie probabilità e luca mi ha chiesto di semplificare il tutto vi dico già che c'era gente comunque che mercoledì eravamo già in 15 a aver comprato l'abbonamento e oggi hanno ricevuto anche loro il nuovo il nuovo indicatore con tutte le nuove aggiunte se non avete ricevuto in l'indicatore aggiornato eccetera o se non ce l'avete in focchiato nel vestito punto biz e mi arriva tutto quindi comunque tutto quello che andrò ad aggiornare e ce l'avrete anche voi se avete fatto l'abbonamento senza spese ulteriori potrebbero essere uno short studiato su altro tocco della mano allora gbp vediamo la domanda che mi è stata posta lo vado ad aggiungere gbp audi gbp audi mettiamo bit time 100 ok il bista in 100 cielo ciano perché dopo farò vedere in finale come l'utilizzo io bit time 100 allora in questo caso io normalmente prima di guardo sempre il giornaliero dove siamo ok prima di fare qualsiasi cosa perché chiaramente l'idea mia è il concetto di giocare ritracciamenti quindi voglio evitare di entrare in posizione che mi parta su verso i top perché qua comunque siamo in zona verde gialla dove negli ultime ore mi sta tenendo questo livello che la proiezione a 150 adesso siamo a 133 periodi grafico orario quindi zona gialla abbiamo detto che noi dobbiamo stimare che prima di 150 non va per stare sicuri che prima di 150 non va a prendere la media mobile morale della favola siamo a 133 ne mancano ancora 17 sono 17 ore sulle 6 di sera direi che è molto probabile che entro domani sera vada a prenderla la media mobile adesso siamo 188 83 io sterlino australia non l'ho mai tradato ve lo confesso fatto euro australia l'australia l'ho fatto contro tutto tranne contro la sterlina quindi chiaramente non avendo avuto esperienza operativa direttamente su questo sottostante non possiamo dire che questi livelli sono perfetti come magari su uno strumento euro dollaro che guardate qua guardate qua qua è rimasto in zona verde sfondato proprio completamente continuato e qui se andiamo a mettere subito la nostra linea di pendenza per avere la certezza qua ad esempio bella ci abbiamo già il segnale che si sta che si sta che sta rallentando punto 1 e punto 2 ci abbiamo il nostro range ok quindi qua in teoria comunque si 189 sotto abbiamo 188 mezzo questo è il nostro range da giocarci adesso se stimiamo che praticamente al 50 per cento adesso non vorrei dire che ti va giù adesso però la probabilità che magari stanotte faccia una sparata in giù è alta se rimane dentro il range chiariamo io non voglio che assolutamente succeda che qualcuno non è disciplinato con gli stop perché comunque stiamo giocando contro 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 trend scusatemi e di conseguenza al posto di prevedere che prende la media qua dove comunque qua si vede che la pendenza ha fatto da resistenza dopo continua e sta lì aspettare che i prezzi incroci in una media mobile per quello io vado sempre a giocarmi il range battuto per evitare queste queste cose qua ad esempio se mettiamo questo è il dax mettiamo il dax 200 ma dove template 200 periodi allora 200 periodi dax andiamo sul giornaliero attiviamo le nostre proiezioni e la nostra pendenza insieme alla media mobile che così vediamo dove abbiamo fatto tutto dal dal menu dell'indicatore si può attivare tutto le medie mobili che il periodo della media mobile questo adesso come vediamo il dax sul giornaliero abbiamo l'aria ben definita sta nella zona verde ok la pendenza la media sta rallentando rispetto alla velocità che aveva precedentemente qua la conclusione che posso tirare è beh entro prima che il big time sarà a 300 i prezzi andranno a incrociare la media mobile adesso uno come può stimare io ho sentito parlare tanti ultimamente soprattutto nell'ultimo mese e mezzo che ci si aspetta un uno storno in borsa del 5 dal 5 all 8 per cento a dipendenza dello strumento no beh in questo caso comunque sapere che potrebbe stornare a 15.000 mi fa dire se io voglio comprare eh forse meglio che aspetto me personalmente questo indicatore eh sul giornaliero sui 200 periodi eh definisce veramente il trend eh tra virgolette di medio periodo quindi eh chiaramente fin tanto che i prezzi la pendenza della media sarà positiva eh della 200 periodi 200 giorni siamo in un tre in trend rialzista quando incomincia ad essere neutrale siamo in un trend neutrale quando è negativa e beh qua parte la bella correzione adesso qua noi cosa possiamo stimare secondo la regola di un trend eh in salita massimo dovrebbe teoricamente il possibile test fare ai massimi precedenti quindi o questi o questi di di conseguenza noi qua ci abbiamo i minimi del range dopo essere salito poi è continuato a salire e qua si è stabilizzato e tra l'altro questa qua è la linea secondo lo storico no? in poche parole nello storico noi ha fatto massimo 271 giorni che è stato sopra le che i prezzi sono stati sopra la media mobile no? quindi se noi vogliamo andare a vedere ok ma storicamente eh per non prenderla scusate il termine nel culo eh storicamente eh dove si troverebbe eh la media se passasse tutto quel periodo del periodo massimo passato e beh si troverebbe lì eh come ha superato innanzitutto le prime volte che ci è arrivato eh hanno incominciato a giocarci contro il ribrutto eh dopo averlo superato non dico che sono state vende vendite libere però eh ci stava sopra pochi giorni ok tutte le settimane potevate vendere sopra e questo veniva giù comunque eh detto questo vi ricordo una cosa eh si dice che anche che statisticamente l'ottanta barra novanta per cento del volume eh generato nel mercato è generato da eh robot algoritmi e quant'altro adesso se io dovessi costruire un robot eh che mi insegue i trend comunque includerei queste statistiche eh di dove può finire a livello temporale un trend se guardo l'euro dollaro bene o male un trend non dura più di un anno eh andiamo a vederlo semplicemente allora trend in salita qua era partito nove aprile era finito il sedici febbraio ok qua partito 18 marzo finito 4 gennaio ok quindi comunque eh già qui a livello temporale uno si fa un paio di calcoli dice ok è partito un trend so che fra un anno di sicuro questo trend sarà finito o comunque si sarà stabilizzato eh quindi detto lì eh dovrò andare a cercare al limite punti di inversione o possibilità secondariamente torniamo invece adesso eh come decidi la media da usare io utilizzo la la 50 periodi come prima media mobile quella più bassa quella più veloce tra virgolette eh e poi gli aggiungo la 100 e la 200 eh in successione geometrica eh però di per sé essendo statistiche eh se tu usi una media mobile eh mio padre ad esempio utilizza il posto da 50 55 eh anche lì ti dai livelli calcolati su 55 periodi e le varie statistiche basate su 55 periodi dopo chiaramente state un attimo eh andare a analizzare il grafico e dire ok vediamo se il grafico sta dentro zona verde o zona gialla quasi perfetto eh mi dice di chiudere volevo solo concludere eh un attimo nel senso chiudi chiudi per mostrarvi qua già il cable sappiamo che è più volatile quindi la probabilità di entrare in zona arancione eh in zona arancione eh aumenta rispetto a euro dollaro qua rimane giallo verde qua eh verde praticamente diretto qua giallo verde però rientra diretto adesso adesso dovrà caricare giallo verde giallo verde giallo verde giallo verde verde giallo verde qua c'è un altro eh arancione ok sulla 50 periodi mentre dopo entra in concomitanza anche la 100 periodi e questo eh voglio mostrarvelo questo voglio mostrarvelo perché è il classico il classico caso adesso fatemelo seguire bene cosa succede eh la maggior parte delle volte il trend ok siamo in discesa entriamo in zona bit time qua è già tra virgolette a cavallo della zona potevamo provare a giocarci range però lo stop dovevamo limitarlo qua ok poi dopo è continuato a scendere eh siamo già entrati nella zona arancione che a me non piace molto eh quando li sta dentro eh perché indica che comunque potrebbero arrivare 100 ore in questo caso l'ha zerato sempre nella zona gialla perché abbiamo detto che quando la maggior parte degli eventi succede prima di 100 ok quindi prima di 100 in teoria la media è dentro la zona gialla per quello se lo giocate nella zona arancione eh vabbè potete farlo però mettete come profit e questo livello perché dovreste aspettare che la zona che la media arrivi lì in modo da potervi fare più volte eh cioè da poter far più posizioni no tra virgolette ed essere sicuri che in pochi in poche in questo caso ore portate a casa la posizione sugli indici io sugli indici personalmente eh ad esempio l'ultimo anno eh di covid se cavalcavate lì short tante volte eh tante volte ve lo pigliavate eh nei fondelli se non eravate disciplinati adesso attiviamoli tutti io vi faccio vedere Luca mi aveva consigliato di mostrare eh inizialmente questo webinar solo una media perché dopo introdurre tante in modo che hai tanti livelli sul quale tante indicazioni sul quale sul quale operare eh diventa un po' un casino adesso aspettate fatemi infatti una cosa che volevo scusami aggiungere anche io è questa settimana o comunque da qui alla settimana prossima eh focalizziamoci su quello che abbiamo visto giusto no eh Alessandro cosa ne pensi esatto media mobili a 50 con il nuovo bit time aggiornato e cerchiamo insomma di fare un po' di operazioni in questo senso soprattutto sugli strumenti principali che abbiamo visto oggi anche perché eh 50 significa se sull'orario parliamo di due giorni perché come abbiamo detto alla peggio entro 100 no la maggior parte delle volte eh parliamo di due giorni se guardiamo la 100 quindi alla peggio entro 200 eh stiamo già parlando di 100 periodi che era una settimana eh mentre se guardiamo la 200 periodi significa che eh devono passare 200 periodi sono due settimane io utilizzo 50 100 200 esclusivamente in modo da avere una proiezione eh di due giorni una settimana e due settimane in modo da eh potermi fare una stima ok questa settimana eh su cosa tradiamo ad esempio io qua c'ho un esempio eh Australia Nuova Zelanda che sto monitorando qua su quattro ore mi è si è attivato il 200 periodi però siamo già in zona gialla ok e in più mi tiene come resistenza la linea di pendenza quindi non è molto incoraggiante come abbiamo già visto in precedenza se tiene la linea di pendenza come resistenza la probabilità che spari giù ok e come vediamo qua è dentro un canale comunque discendente se andiamo sull'orario sull'orario mi dice una cosa un po' diversa anche qua sono entrato in bit time eh sono in zona arancione però mi tiene come resistenza qua l'ha provato a sfondare adesso me la sta tenendo come come resistenza la linea di pendenza ok e questa era una linea di pendenza del passato mentre quella attuale è qua sopra e più mi dice che la media è sotto cosa che non va bene eh quindi la possibilità che magari mi sfondi il supporto potrebbe essere alta ok e in questo caso comunque essendo in zona arancione potrebbe passare ancora un po' di tempo perché abbiamo detto ci teniamo come profit eh il primo livello e qua è molto schiacciato non vale neanche la pena abbiamo uno zero tre i venti eh come massimo e qui come livello uno e zero tre zero nove eh sono dieci pips sì è proprio risicato cioè per quello quando dico rischio rendimento ok buon ragazzi eh ci salutiamo eh ci vediamo la prossima volta e vi aspetto venerdì e mercoledì prossimo eh sempre qua su investire punto biz rischio